Questo è Roy. Sta andando in piscina. E questo è Dampu. Sta portando le ultime sfere alla piscina. La piscina è pronta. Venite a nuotare. Polly e Amber stanno nuotando. Buttati noi! E quello là chi è? Questa è Cleanie. E accanto a lei? Ciao, Minnie. Ciao, Cleanie. E ora, la cascata.